Dicono che il bello della fotografia sia appassionarsi delle ottiche a focale fissa e scoprire quelle che sono delle prospettive inusuali e dei modi di fotografare che richiamano un pochettino il passato, ma che si agganciano prepotentemente al futuro perché non passano mai di moda. Ritornando sul filone delle ottiche che non possono mancare nel nostro zaino fotografico, oggi vado a parlarvi di quelle che secondo me sono le ottiche essenziali a focale fissa. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare. Come sapete mi occupo di fotografia, mi capita di lavorare con delle ottiche a focale fissa anche se vi devo confessare, chi mi segue da tempo lo saprà già, che io prediligo gli zoom, almeno ho prediletto gli zoom fino adesso, perché a questo punto della mia vita, carriera, chiamatela come volete, mi sto forse finalmente appassionando alle ottiche fisse. Questo perché forse avendo acquisito un po' più di sicurezza, conoscendo bene i miei clienti, sapendo cosa mi serve in determinati contesti, sono più tranquillo ad andare a fare determinati lavori con una focale fissa. Se io sono sempre andato a fare un lavoro con un'ottica zoom e poi mi sono reso conto che la utilizzavo sempre e solo alla stessa lunghezza focale, a quel punto posso andare con una focale fissa a fare esattamente la stessa cosa, ma meglio, perché la focale fissa ha sicuramente dei vantaggi. Prima di andare a esplorarli, io vi ricordo per chi non l'avesse ancora fatto di iscrivervi subito al canale cliccando il bottone qui sotto, fatelo adesso se no ve lo dimenticate, lasciate anche un like a questo video per farmi capire che avete apprezzato l'idea di questa tematica. Andiamo subito a incominciare la nostra panoramica e oggi vi dico quelle che sono secondo me le ottiche essenziali che possiamo avere nel nostro zaino parlando di ottiche prime. Quindi partiamo dal basso, troviamo sicuramente il 24 mm. Il 24 mm è sempre stato considerato il grand'angolo standard, nel senso che non è un'ottica normale. L'ottica normale, lo standard è il 50 mm, che è simile a quello che state vedendo adesso. Il 24 ha un angolo di campo più ampio, quindi è considerato il grand'angolo standard. Vero è che a me piace andare più wide, a me piace il 16 mm e infatti vi potrei parlare del 16 mm f2.8. Ci sono delle focali fisse carine, anche un pochino più grand'angolari, però in questo caso prendiamo in considerazione soltanto le quattro principali. Quindi sicuramente il 24 mm, secondo me non può mancare. Un grand'angolo con una bella apertura, perché se prendiamo quello di qualità abbiamo un f1.4, un f1.8, quindi abbiamo un ampio grand'angolo, però con anche la possibilità di sfocare lo sfondo se ci avviciniamo al soggetto e con anche la possibilità di scattare con poca luce e con una nitidezza sicuramente superiore rispetto a un'ottica zoom. Salendo la scala troviamo subito il 35 mm e anche qui ci sono delle belle soddisfazioni, perché per esempio io in questo momento sto montando il 35 f1.8, che non è un'ottica di qualità eccelsa, è un'ottica middle ground, è un'ottica così da, diciamo, un po' da battaglia, non è neanche tropicalizzata se ricordo bene, però il suo sporco lavoro lo fa, nel senso che la nitidezza ce l'ha, lo sfocato lo produce, meno di un f1.2 ovviamente, però comunque lo produce, a me va benissimo così, non aveva senso per me spendere 3.800 euro per avere un pelino di sfocato in più, andava benissimo così. In più quest'ottica fa anche macro, il che è molto molto interessante. È un'ottica con cui possiamo fare un po' di ritratto e un po' di reportage, secondo me. Comunque è un'ottica intermedia che però risulta molto interessante, ha un bel dinamismo che secondo me ci può regalare delle forti emozioni se la portiamo con noi nella nostra borsa fotografica. Andando a salire troviamo, saltiamo a più e pari il 40 mm, che ci interessa poco in questa sede, andiamo sul 50 mm. Il 50 mm, come qualcuno saprà, è una focale che a me non piace, però non posso non nominarla, perché parlando delle quattro ottiche fisse che bisogna assolutamente avere, il 50 mm è sicuramente una di queste, intanto perché è esattamente a metà. È considerato lo standard e quindi è un'ottica che per quanto io trovi difficile da usare, perché non va mai bene, perché dobbiamo sempre o avvicinarci o allontanarci, ma è difficile che vada bene e quindi ci costringe a fare fatica. Però è un'ottica che se impariamo a usare sicuramente è valida e ha dei buoni punti di forza. E comunque, essendo considerata lo standard, sarebbe stato semplicemente assurdo non includerla in questo elenco. Il 50 mm ha diversi vantaggi. Intanto, come abbiamo già sviscerato nei commenti di un video precedente, diciamo che potrebbe avvicinarsi a quella che è la visione umana. Io non sono molto d'accordo con questa visione. Secondo me la visione umana è più vicina al 35 piuttosto che al 50, però questi sono cavilli. Diciamo che è considerato il più vicino alla visione umana e comunque è uno dei più utilizzati in street photography, è uno dei più utilizzati quando si deve fare fotografia, chiamiamola normale, perché ci sono dei contesti particolari. Se io devo fotografare un colibri al volo, al tramonto, quello è un contesto particolare, molto difficile. Se sto fotografando la finale del Super Bowl, anche quello è un contesto un po' complicato. Se sto fotografando dei batteri, anche quella è una cosa un po' complicata. Se sto fotografando Giove e Saturno, anche quello è un contesto un pochettino fuori dalla norma. In tutti i contesti considerati normali, quindi un po' di ritratto, un po' di fotografia familiare, un po' di street, un po' di foto in studio, grossomodo tutte le casistiche considerate standard, il 50 mm è un'ottica che può assolutamente risolvere alla grande la situazione. Inoltre ha il grande pregio di essere un'ottica che di solito costa poco, ovvero si trova la versione che costa poco, c'è la versione base che costa poco, poi c'è la versione intermedia che costa un po' di più e poi c'è la versione monster che costa 3.000 euro e passa. Dipende sempre da quale fascia ci vogliamo collocare, però possiamo averne uno anche per un prezzo umano. A questo punto, se continuiamo a salire nella nostra scalata, troviamo ovviamente l'85 mm, quello che io considero essere il più bello di tutti, perché mi piace moltissimo l'effetto che restituisce. Il fatto di avere una focale abbastanza lunga, unita a un diaframma naturalmente molto aperto, gli conferisce questo look assolutamente inconfondibile con cui siamo in grado di fare dei ritratti con uno sfondo pazzesco, isolando benissimo il soggetto in ogni contesto e mantenendo comunque una nitidezza pazzesca, scattando anche in condizioni di luce proibitive, perché comunque andiamo a scattare a f1.2, f1.4, f1.8, cioè abbiamo una lente con un diaframma molto aperto naturalmente e quindi riusciamo a scattare anche quando c'è poca luce. Ecco il contro dell'85 mm, la cosa che mi piace un po' di meno è che comincio a considerarla un'ottica abbastanza settoriale, cioè con l'85 mm si fa ritratto. Io vedo difficile fare altro con un 85 mm e vi dico anche perché ho provato a fare fotoprodotto in studio con l'85 mm, non mi sono trovato bene, non mi sono trovato bene perché la maggior parte degli 85 mm hanno una distanza minima di messa a fuoco che si aggira intorno ai 70-80 cm. Questo significa che devi stare molto indietro per mettere a fuoco il tuo soggetto, altrimenti non puoi mettere a fuoco correttamente. Dovendo stare molto indietro, tutto quello che è più piccolo di un gatto non lo puoi fotografare. Quindi io sono riuscito a fotografare il mio gatto, perfetto, benissimo, però se io dovessi fotografare per esempio un'altra macchina fotografica? No, non è la roba sua. Se io dovessi fotografare un telefono cellulare non è la roba sua, se io dovessi fotografare un orologio, oggetti piccoli, non è assolutamente la roba sua perché non posso avvicinarmi, a meno che non sia un 85 mm macro, quello è un caso particolare, però il mio 85 mm non può avvicinarsi più di tanto, per cui per come la vedo io l'85 mm è una lente abbastanza settoriale con cui si fa ritratto e quello è veramente imbattibile, secondo me è la lente più bella che ci sia per fare ritratto perché ha zero distorsione e uno sfondo semplicemente pazzesco. Detto questo, come dicevo all'inizio, faccio due menzioni speciali perché ci sono un altro paio di ottiche prime che si potrebbero prendere in considerazione. Queste diciamo che sono, questo è il core, questo è quello che non può mancare. Se vogliamo avere delle ottiche fisse con queste che vi ho nominato facciamo tutto. Però ci sono un paio di cosine in più che potremmo desiderare e sono appunto macro, quindi io potrei volere un 65 mm macro, sempre fisse, vi sto parlando sempre di vocali fisse per non uscire dal tema, potrei volere un 65 mm macro con cui posso avvicinarmi a fare qualcosa di più grande, magari con un ingrandimento di 0,5, oppure potrei volere un bel 100 mm macro con cui ho un ingrandimento di 1 e questo è meraviglioso perché quella è un'altra lente che a me piace tantissimo perché posso avvicinarmi quanto cavolo voglio io e a quel punto se devo fotografare un gatto va bene, se devo fare un ritratto pure va bene perché mi allontano, se devo fare un telefono cellulare o un oggetto di dimensioni analoghe va bene perché mi avvicino, se devo fare il quadrante di un orologio va bene perché mi avvicino abbastanza da fare anche quello, quindi è una lente che ti rende un po' onnipotente per quanto riguarda le distanze perché veramente mette a fuoco da infinito a 5 cm e quello è veramente bello da poter fare. L'altra cosa di cui sentirei un po' il bisogno col setup di cui vi ho appena parlato è, lo nominavo già all'inizio del video, il 16 mm. Ora ho visto che esistono a seconda della casa diverse ottiche esistono dei 16 mm a focale fissa e dei 14 mm a focale fissa, poi ce ne saranno anche degli altri di terze parti ma lì è una selva quindi non li prendo tanto in considerazione. Quelle sono ottiche che secondo me può valere la pena avere, bisogna andare a vedere caso per caso perché per esempio il 16 mm di Canon per RF, focale fissa f2.8, l'ho provato, non mi ha fatto impazzire, nel senso che ha un po' di difettini, ha un po' di vignettatura, diciamo che non mi ha entusiasmato e quindi sono andato sul 14-35 e credo di aver fatto bene perché è un'ottica più grossa ma che mi dà qualcosina di più, però parlando di ottiche fisse, se vogliamo farci un parco ottiche con delle focali fisse, secondo me il 16 sarebbe anche lui da prendere in considerazione perché con tutte le ottiche di cui vi ho parlato oggi non ne abbiamo una con cui fare fotografie di interni seriamente. Con il 16 mm f2.8 possiamo fare foto di interni molto serenamente perché è un angolo di campo che ci permette di riprendere l'interno di una stanza quale che essa sia. Per cui con queste ottiche mi rendo conto che sono un po' tante a questo punto e per averle tutte bisogna veramente svenarsi. Con queste ottiche siamo a posto e tecnicamente non ci serve più nient'altro. Vero anche che noi possiamo scegliere, possiamo fare delle scelte perché magari uno dice guarda io faccio solo ritratto e allora ti pigli l'85 e il 100 oppure ti pigli l'85 e il 50 o ti pigli l'85 e il 35. Secondo me si può fare una scelta e prenderne due o comunque prenderne una per cominciare. Ricordatevi che nessuno vi obbliga a comprare cose. Io sto dando dei suggerimenti ma non sto assolutamente intanto non mi paga nessuno quindi non sto prendendo soldi per dirvi di comprare roba. Vi sto soltanto dicendo come mi trovo io con la mia strumentazione e quindi che cosa potrebbe servirvi se volete fare determinate cose. Diciamo che purtroppo nella fotografia se volete fare determinate cose qualcosa dovete comprare quindi in questo senso io vi vado a orientare sulla scelta però poi comprate quello che volete quando volete quando potete e non fidatevi di quello che dico io perché io posso sbagliare sono un essere umano quindi andate a controllare prima di comprare una cosa oppure chiedetemelo nei commenti. A questo proposito vi ricordo di iscrivervi perché se mi scrivete un commento se mi fate una domanda e qui mi devo scusare con molti di voi perché siete diventati tanti e sono l'unico al mondo su questa piattaforma che invita la gente a commentare di meno. Siete così tanti che sto facendo fatica a rispondere e quindi privilegio le domande cioè se mi fate una domanda se mi dite guarda dopo domani c'è la cresima di mio cugino devo comprare una lente per fargli le foto che cosa compro lì cerco di rispondere tempestivamente ovviamente se mi dite bello il 35 mm lo lascio in coda perché non mi avete fatto una domanda quindi non è urgente li leggo tutti ma poi magari a qualcuno tardo un pochino a rispondere perché do precedenza alle domande e a questo punto ve la faccio io una domanda secondo voi ho dimenticato qualcosa c'è qualche ottica che voi avreste incluso in questa classifica oppure qualcuna che avreste tolto perché la reputate inutile fatemelo sapere nei commenti io non mi dilungo oltre vi ringrazio di aver passato con me un po del vostro tempo e vi do appuntamento come sempre al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.